Francesco Quaranta, Deve della Nostra, Alfredo Bonetti, dell'Insieme Verona, Giuseppe Rambaldini, Capoppiano, Andrea Rizzini, Rodengo, Federico Spertini, Riccardi, Luca Favari, Sport Club, Briccia. D'Alfredo. Samira, Manai, Benissimo, 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 aiaiai Alfredo si ritira. Mentre si va a chiudere questa quarta serie dei 600, le tre migliori del 600 donne sono pronte al podio. 2-8-0-2 per Alice Mistri, alfinistico, verbovese, terza. Mentre va a vincere Andrea Rizzini, Rodengo, secondo posto per Samira, Manai, Prisono, 1-36-14. La vittoria per Breanna Federica Sellei, per la Drago Atletica, 1-32-32.